Sindaco Castagna, allora la strada giudiziaria va avanti, quindi l'ASL ha prodotto ricorso al TAR verso le due ordinanze che avete predisposto, quindi anche lì bisogna andare avanti insieme e di concerto con gli altri sindaci? Certo, la seduta che abbiamo fatto stamattina secondo me è stata veramente, mi ha fatto piacere vedere tutti i sindaci sentire che appunto c'è un'unità di intendi, ci sta veramente un interesse anche perché stiamo parlando di sanità, quindi non è che stiamo parlando di fare belle o di pittare un palazzo di un colore o di un altro qua stiamo parlando della salute dei cittadini, stiamo parlando della nostra salute di tutti quanti nel senso che appunto non sono le dieci persone che stanno a Villa Horizonte ma alla fine siamo noi che dobbiamo tutti quanti insieme pensare che quella è una struttura che è un nostro diritto è un qualcosa che ci deve per forza interessare, ecco la problematica però intanto stamattina avete prodotto un documento sottoscritto molto forte che avete inviato a Caldono chiedendo addirittura la rimozione di Ferrazio Sì, questo sì, a me dispiace sempre, cioè io l'ho firmato perché effettivamente la cosa sta così insomma dal punto di vista istituzionale non è che si è comportato proprio bene perché io proprio io per sottoscritto più volte l'ho cercato di contattarlo l'ho sentito solo una volta per telefono dove mi spiegava le sue ragioni perché è arrivato a questa decisione di Villa Stefania e io appunto chiesi di incontrarlo da vicino proprio per andare a spiegare quali erano le nostre motivazioni perché io comunque avevo ascoltato tutte quelle che erano diciamo le problematiche che mi venivano segnalate però lui insomma anche il 7 di agosto insomma non farsi trovare in regione la cosa lì era fatta addirittura venire a casa Michel è proprio lo schiaffo Sì, mentre io stavo a Napoli è venuto a casa Michel e mi è sembrato proprio come dire sa non me ne importa poi pure sull'episodio dell'eliporto anche lì la cosa mi è sembrata quasi come dire faccio il dispettuccio del bambino cioè non sta bene perché poi alla fine ripeto qua non stiamo parlando del fatto di fare un palazzo grigio nero rosso qua stiamo parlando della salute dei cittadini stiamo parlando del servizio dell'eliporto che è una cosa essenziale cioè voglio dire è vero che noi ci auguriamo sempre 100 anni di buona salute però insomma quante volte veramente l'elicottero ha salvato una persona senti a inizio però hai fatto quasi un mea colpa dando la colpa alla politica assumendoti un attimo tutte le colpe ma deve essere così perché alla fine se succedono queste cose non possiamo sempre soltanto attribuire la colpa a una persona forse lui ha sbagliato negli atti successivi cioè quando è arrivato a una decisione e si è in certo modo estrainato a tutte quelle che poi erano le nostre osservazioni però è logico che la politica non è che per arrivare a questo vuol dire che qualche cosa non ha funzionato